6. Gli occhi 6. Gli occhi 7. 8. 9. 10. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 15. 16. 17. E poi una cosa che mi sono messo. Pazz***a. Tant'altro che ci sento un'emba, con una luce dentro. Non che ci sento sempre. Ora vediamo, ora vengono inizio. Siccome lui è più alto di tutti gli altri, dice prima che andavamo a fare più pazzi ancora più avanti, avanzate, o nelle buone, nelle carte, non lo sai, ma non c'era più. E' un numero uno di tutto qua. E' un c***o conmiglia. E come c***o c'era sempre di soga, è un c***o compagno. Ma c***o c'è sempre qua con me. E' un c***o. Il mio pallino è stato sempre il. E' un c***o, questo pallino. Ci siamo e basta. Un c***o. Di c***o che ho figliotto. Dei c***o sono tutte. Dunque non si può andare a fare mai con chi? Questo non ci siamo capiti. Un c***o che mi ha messo, non mi ha messo qui, la mia madre. E' un c***o che ha detto mai. Come fa un paese per c***o? Ma che da fuggiare? Sempre, sempre è possibile. E' un c***o. il ringhiero con noi non c'è un appartamento, c'è un voletto già chissà su chi siano è bello che siano se no ti potevo fare sparagniere per aspettar tanno no no no, è per escursione 3.000 sarei accogliato a nuovo 3.000 cucchiai e quando ci passano a fare una cucchiai non è meglio prendere certo, 7.000 euro o meno giusto? 2.500 per 14 35 e ma vede che ci sono i 500 non c'è un genere o i 10 ah, è un po' di sana io già fuori mi inscrisse tutti i 100 se è il bichettino a tutti 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 grazie grazie grazie